abbiamo poco spazio ma sono sempre esercizi nuovi di gastronomia gastronomia è un settore senza fine perché la gente comunque ama evadere il gusto l'olfatto il gusto l'olfatto e allora c'è il gusto il tatto l'olfatto il la vista e l'altro non me lo ricordo poi poco male qui c'è la pasticceria boni vedete che sono già al lavoro potrei mettermi qua l'ho già fatto ho bisogno di te allora che apro presto chi c'è che mi possa raccontare ospitare boni sono carini ma non vogliono raccontarsi questo mai corbelli ancora meno corbelli corbelli